1 1 1 2 1 1 2 1 2 3 2 1 1 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 5 3 4 5 4 5 5 5 6 6 7 7 11 11 11 11 12 12 11 12 12 12 12 13 15 15 15 15 16 16 16 16 16 20 16 16 17 15 Qui Stone chiude il palleggio Si torna fuori da Clevinen Prende bene posizione Thompson che poi Questa volta di Nikolic c'è Thompson Dalle sue parti che prova a creare spazio Proprio a Stone La passa a 32 Stone già dall'altra parte per Rossato Che si butta dentro, spaglia Vola a rimbalzo Thompson Che segue a rimbalzo, segna La parabola con Henderson Che ha tentato di oscurargli la vallata Dall'altra parte, dentro Pallone per Johnson Va da Logan, che tos Si prende un tiro da tre punti Sbaglia però anche questa E ancora toh Un rimbalzo offensivo di Thompson Che riarma la mano di Logan Le percentuali dei 6.75 Aggiornate anche dalla grafica Okoye ancora da due Thompson Osmo poi vedo sezone Pruna con Peter Wenzhenik Poraza Ma nuovamente la Cappelletti Non riesce a tirare Va dentro da Langevine Che si mette in proprio Passo di incrocio Stoppato Langevine Sento meglio di lui solo Philip Kruslin Del banco di Sardegna Sassari Sguardo in alto di Thompson Pinkins Assort Brasi Hanno preso un po' il via E poi per la Girova Nonostante diversi tentativi di rimonta Si è fatta dura Inizia il secondo quarto Sato che Dio ridà la palla Vuole che l'americano non si giochi in uno contro uno Fuori da Thompson Per il piazzato Eccolo Logan Va sotto le planche da Thompson Si rinnova il duello con Langevine Post basso di Thompson Che prova l'uncinata Per la Gepi Napoli Va a segno Il tentativo di tripla Da parte di David Logan Amici ne arriva fino in fondo Stoppato I compagni poi torna Da Julia Stone Ci sarebbe un vantaggio fisico Bell Alto basso giocato Da Thompson Per Croo Andare dentro A cercare Il compiamento favorevole Fra Stone e Schiappas Di Piera Stone Un po' di vantaggio A livello di centimetri Taglio di Thompson Il numero 3 Scafatese Rossato contro Lumberg Prova ad andare a ripicare Ricevele la tasca Thompson Si prende un altro tiro Segnato Continuando Laseri Storna Alistro Cambio di pensile Alistro Mismatch Tra Thompson E Stuart Sonsa Stuart Sonsa I esperti Della nostra serie Mago delle salvezze Chiamato proprio per cercare Di salvare Intanto Storna E vola una mano In chiodare E ridà anche entusiasmo Al Palace GM Forum Okoye per l'attrezza Tipo la di serata Ancora Nel suo tempo C'è un movimento Si fa Il blocco La parte di Cruze Pinti Spogliendo La spiazza Il passaggio Verso Prezzo di Monaldi 2-0 I falli Per Verona Thompson Con spazio Da tre punti Segnato per Thompson Entro per Thompson And one And this Stephens Quello qui Stephens La stoppata Di Thompson Ardegna. E buon divertimento a tutti i miei spettatori della squadra. Però non c'è una viena subito. La gara è scarico ottimo proprio di Okoye per Thompson che sbaglia ma vola rimbalzo recupera Enna con un tiro non semplice ma lo manda. Logan contro Dao di Thompson. Logan dalla media. Prima Thompson! Il ribattamento per i Kanji adesso vuole appoggiarsi a Thompson che fronteggia. Ci ha dalla media per il pivot è passato. Taglia Thompson. Si va da Pinkins dentro proprio per Thompson. Copiato a Grasulis. Thompson! Thompson la recupera. David Logan. Vai in transizione. Thompson. Okoye! Thompson in bro. 5 secondi. Prova a dare da Thompson che fa saltare l'avversario diretto e va a schiacciare. Poi dentro ancora per Trevor Thompson va a rimbalzo e poi con se ne cance. Segna sul centro Severini Figlioi con la finta poi si butta dentro dentro da Severini. Arriva la stupata. Prova Cappelletti sui Kanji lo lascia lì poi va il ferro! Al momento è miglior realizzatore del campionato con 25 di media grazie a due prime le prime due partite veramente prosegue con la tripla di Burns solo ferro per lui può provare a correre schiaffati rossato per Thompson è una partita bellissima anche immagino da vedere da casa Thompson semi gancio controllo poi step back con un gran controllo invece in palleggio la rimbalzone di Olman che però non trova Canestro lottano sulle... che riceve in punta end off per Julian Stone ancora il doppio a zero per Trevor Thompson sette secondi Milano difende bene Scappatino riesce a costruire alcun vantaggio Thompson contro Melli Thompson che provano a chiudere fa saltare l'avversario Thompson